il dissesto non doveva arrivare oggi dopo due anni dal nostro insediamento che che si possa dire che non è una bella cosa per la città sarebbe stato una salvezza per la città già da quando c'eravamo insediati per due ordini di motivi perché sono passati due anni e siamo al punto di partenza sono passati due anni e stiamo ancora soffrendo come città per cui penso che questo dissesto doveva essere il modo per risollevare la nostra città la nostra comunità era quello che avevamo detto bastava fare i conti e capire subito cosa bisognava fare non aspettare che decidessero gli altri per noi sono stati commessi errori per inadeguatezza di alcuni di cui ci siamo fidati o di cui si è fidato il sindaco e di cui ancora si fida questa è la cosa più brutta da dover dire perché il sindaco nella sua diciamo bontà infinita non è una persona sprovveduta però in questo caso ha dimostrato di essersi fidato di chi non si doveva fidare e se partiamo dall'inizio dobbiamo partire da un'emblematica persona che è quella del segretario generale l'ho sempre detto l'ho sempre sostenuto abbiamo perso un anno più di un anno e abbiamo trovato tutto quello che oggi ci ritroviamo proprio per l'inadeguatezza che poi per carità nulla questo con le persone però l'affidabilità l'esperienza modus operandi è importante in un ente pubblico in una pubblica amministrazione confermare di nuovo il segretario ed era la cosa cui io non davo fiducia assolutamente dopodiché molti hanno detto va bene io potevo essere una noce in un sacco vuoto benissimo un susseguirsi di tante cose per la quale nessuno mi ha ascoltato dei suggerimenti che ho dato e che oggi vedo che tutto quello che avevo detto che avevo proferito o che avevo immaginato si sta avverando di sesto ci sarà a prescindere già vedendo che avevano fatto ricorso avevo già detto che non sarebbe stato accettato poi si parla di compensazione questa compensazione spiegatela qual è questa compensazione le compensazioni avvengono anche nell'insediamento di un commissario ad acta che si compensano le spese ma sicuramente non è continuando ad andare a ricorsi che noi usciremo da questo dissesto e scusatemi per quale motivo non si vuole accettare questo dissesto quando noi ancora pagavamo debiti delle precedenti amministrazioni nel momento in cui si fece il salvaggiarre già dovevano essere già stati liquidati tutti i creditori invece oggi ci ritroviamo con debiti fuori bilancio che sono stati pagati e gente della stessa cordata che non è stata pagata vogliamo fare l'esempio della cenere benissimo come mai si sono approvati debiti fuori bilancio per una parte di persone escludendone altre avevo io dato un consiglio anche all'ex amministrazione di creare una transazione ecco di creare una transazione di creare e così mettere avere un fondo anche per poter fare determinate cose invece ci ritroviamo che molti creditori sì alcuni sono stati pagati per carità ma tutti i debiti di fuori bilancio che abbiamo pagato in questi due anni a che cosa sono serviti? Allora la mia vicenda personale io la lascio alla coscienza dei molti e l'unico rammarico è quello che quando sono stata tacciata di non essere il segretario del movimento da qualche consigliere ultimo arrivato lì è stato brutto perché come in una famiglia penso che un padre quando non gli dici non ti dicono che tuo figlio non è tuo figlio penso che sia la cosa più brutta e meschina che possa esserci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.